Consigliere, quando si viene eletti con una bandiera e poi si cambia in corso, non è mai una cosa che i cittadini prendono in maniera positiva. Lei ha scelto di lasciare il gruppo Raghinelli e di andare nel gruppo misto. Come la vive? Io non lo vedo come un problema rivolto ai cittadini. I cittadini hanno sempre il punto di riferimento e possono contare su dei miei. Avevo scelto di candidarmi in una lista civica proprio per non avere nessuna appartenenza politica. Ho sempre avuto un modo di stare a contatto con la gente, di rispondere in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione e a portare avanti quelle che erano le problematiche che le persone mi facevano presente. Una politica con il bavaglio non mi piace. Ho detto nel comunicato che non c'è stato accordo fra armonia, fra alcuni assessori e alcuni consiglieri. Non ho specificato i nomi perché logicamente non è simpatico. Con alcuni si andava bene, con alcuni no. Io quello che ho sempre chiesto è un po' di spianzo per stare in contatto con la gente. Non mi è stato permesso e io sono stata eletta dai cittadini, rispondo ai cittadini. Ho sempre detto non ho guardato se di destra, di sinistra, di centro-destra non mi interessa. Io le problematiche le affronto tutte. Poi se siamo arrivati a questo punto purtroppo io non mi posso sentire col bavaglio. Voglio contribuire a fare qualcosa di concreto per la città perché sono tanti anni che ci metto impegno, ma non per autoreferenzialismo. È una cosa che proprio mi piace stare a contatto con la gente, mi piace cercare di risolvere i problemi. Voglio bene a questa città, pertanto le briglie no.